Allora io stasera ho un compito nuovissimo per me, faccio un sacco di cose nella mia vita, non avevo mai fatto anche l'intervistatrice, stasera sono qui appunto in questa veste, veste di lettrice di questo libro, Post-Coronial Studies, che naturalmente magari poi ci racconti anche perché ci diamo del tu, vero? Non dobbiamo far finta di darci del lei. L'origine di questo libro è che ho avuto il privilegio di leggere appunto nelle settimane passate, ringrazio ovviamente Maurizio per questo, perché io? Perché naturalmente è un libro che parla di Covid, è un libro che parla della pandemia, degli effetti della pandemia, analizzando un po' una serie di 600 documenti che sono stati pubblicati in vario modo nell'ambito del Covid, non scientifici come dici tu, non hai guardato le pubblicazioni scientifiche che sono state una marea, un'infinità, ma comunque analizzare appunto, Maurizio ha letto questi scritti per capire che cosa succedeva nella nostra società, che tipo di documenti venivano prodotti e che cosa ci potevano raccontare questi documenti, che cosa anche ci possono insegnare per il futuro. E appunto c'è un'analisi nel libro di tante situazioni che noi abbiamo vissuto, no? Prima di tutto l'impatto che il virus ha avuto sulle nostre vite, come si è presentato, come da noi è stato interpretato, no? e adesso magari ne parleremo. E poi c'è stato questo grande, c'è un grande capitolo che affronta il tema di chi non crede alla scienza, quindi del negazionismo, del complottismo. Sappiamo tutti quanti che in questi giorni ci sono state e ci sono ancora numerose manifestazioni contro l'uso del Green Pass, contro i vaccini, anche quella di Novara, l'ultima, inquietante, in cui i manifestanti si sono vestiti come dei deportati, no? come degli ebrei deportati nei campi di concentramento. E quindi si analizza un po', nel libro c'è questo racconto che, come vedremo insieme, alla fine ci porta a delle conclusioni, cioè quali sono delle caratteristiche comuni che uniscono questo pensiero antiscientifico. E poi c'è questo, secondo me, un terzo aspetto molto interessante che è quello della tecnologia, del suo ruolo nella nostra vita, ma anche nella gestione della tecnologia, perché andiamo verso un futuro sempre più tecnologico, sempre più, in cui la tecnologia avrà un ruolo sempre più importante e in qualche modo dobbiamo imparare a conviverci, a sfruttarla al meglio e a gestirla. Allora Maurizio, io inizierei prima di tutto col titolo, quindi a cosa richiama questo titolo, perché questo titolo così stimolante, così bello e poi ho preparato una serie di domande sul tuo libro. Beh grazie, innanzitutto grazie per aver accettato di parlare delle mie escrivaglieri, per dire così, di questi, perché di solito quando un filosofo incontra un competente, il competente dice che non ha capito niente, ma anche filosofi grandi, cioè Bergson ha parlato contro la relatività, ritenendo di avere dei buoni argomenti e Einstein gli ha dimostrato che i suoi argomenti erano pessimi. Ovviamente mi sono un po' cautelato, perché qui ho detto non tratto di nessun argomento scientifico, ma soltanto di tutti, intanto ce n'era già più che abbastanza anche delle cose non scientifiche, ma comunque anche in quel campo schivando abilmente la scienza avrei potuto dire comunque delle castronerie e quindi probabilmente le ho dette, ma Antonella ha avuto la gentilezza di non notificarle. Post-Coronial Studies, che cos'è? È il fatto che, come molti di voi sapranno, c'è un fiorente genere essenzialmente accademico, perché c'è soltanto nelle università, principalmente all'origine americana, che si chiamano studi post-coloniali. Questi studi post-coloniali dicevano noi abbiamo ereditato un canone che è quello del bianco, maschio, protestante e leggiamo i libri che sono stati scritti da gente così. Noi stessi diventiamo gente così, ma noi in effetti molto spesso non siamo gente così, siamo per esempio delle donne, oppure siamo dei neri, che non assomigliano per niente, tranne la figura di Otello ovviamente, a tutti questi classici che ci fanno studiare. Questo è il principio più che sano e condivisibile, solo che poi per esempio si è trasposto anche in paesi che per esempio una storia coloniale non ce l'avevano, come l'Italia, uno dice, storia coloniale, abbiamo gasato un certo numero di etiopi nella metà degli anni 30, però oltre a questa pagina ripilante non è che ci sia stato un fenomeno di colonizzazione né fino ad ora crearsi una società che richiede un intervento di tipo postcoloniale. E quindi mi faceva sempre un po' ridere il fatto che in posti dove per esempio fino a dieci anni fa non vedevi neanche uno straniero, ci fosse qualcuno esperto però in studi postcoloniali, uno dice ma esattamente a cosa ti stai riferendo? Invece almeno gli studi postcoloniali hanno un interesse generale perché apparentemente il mondo intero, e per motivi che non sto a spiegarvi, si è interessato al coronavirus, è stato interessato dal coronavirus e il mondo intero aspirerebbe a trovarsi quanto prima in una situazione postcoloniale. Visto che il virus tanto c'è stato e continua ad esserci, ancorché per esempio grande cosa, molto ridotto perché si sono trovati i vaccini e se ci pensiamo all'inizio i tempi che si dicevano, il vaccino è ma ci vorrà molto tempo, invece ci è voluto molto meno tempo di quanto si temesse. Per esempio quando è iniziata la pandemia si è detto sarà una catastrofe economica come sette guerre mondiali mette insieme e invece non è stata perché in fondo c'è stato un meccanismo per cui si è riusciti a far funzionare l'economia in maniere differenti da quelle che avevano regolato la nostra vita anche evitando certe dissennatezze tipo viaggiare freneticamente quando delle cose si possono fare su piattaforme non c'è questo bisogno. Per inciso tra gli effetti collaterali di questo virus c'è stato per esempio l'enorme fioritura dell'editoria, l'editoria non è mai andata così bene come adesso, quindi i complottisti che dicevano che il virus era stato creato in laboratorio e cadevano di fronte al problema di cui protest perché è stato creato questo virus adesso sanno perché sto indicando Andrea Bosco delle Inaudi, il virus è stato inventato dalle case editrici per vendere più libri, almeno abbiamo trovato una spiegazione. Allora, questi i vantaggi che sono indipendenti dagli studi post-coroniali però poi un senso degli studi post-coroniali è anche dire in fondo abbiamo avuto anche delle cose che possiamo aver appreso da tutto ciò. Per esempio possiamo, Pedro, tu giustamente hai detto coloro che negano la scienza. Non è semplicemente negare la scienza, in un certo senso dire la so più lunga io, sono più scienziato io di te. Tu in realtà sei il portatore di un sapere corrotto e compromesso con delle istanze di potere che io non riconosco come legittimo e oppongo a questo un sapere più autentico e più vero. Per inciso, questa era una posizione totalmente presente fra filosofi ad esempio, prima che ci fosse il virus ma di cui non si avvertiva il potenziale eversivo. Nel senso che a me era capitato, e questo nell'ottobre del 19, quindi prima che il virus si manifestasse, anzi settembre, di avere un dibattito con un illustre filosofo francese che in seguito è morto ma non per il dibattito e neanche per il virus ma per patologie di tutt'altro genere quindi togliete questo francese da quelli che sono stati uccisi. No, il quale diceva sì sì, era riferito al clima e no ma questo è quello che dice la scienza ufficiale però in realtà noi abbiamo degli altri dati eccetera e dicevo ma voi in fondo sì perché questo è per compiacere il pubblico e uno dice ma in fondo anche noi stiamo compiacendo il pubblico, cioè voglio dire di fronte a noi c'è qualcuno quindi questa idea che si è portatori di una verità più vera della verità perché non compromessa con il potere circolava e circola come un fatto endemico dentro alle società e probabilmente il virus è stato un polarizzatore non so come vedi tu la cosa. Tu hai scritto infatti una frase bellissima solo un filosofo può segviamente negare una pandemia però il filosofo è allenato all'analisi razionale della realtà e molto spesso invece queste persone che negano la pandemia non hanno gli strumenti per farlo lo fanno probabilmente come dicevi perché c'è quasi un bisogno di eroismo, un bisogno di creare un mondo in cui ci sono buoni e cattivi, in cui si è un paladino della libertà, cioè la domanda che ti pongo è è un'esigenza dell'umano quella di creare un mondo appunto diviso in buoni e cattivi, di creare un mondo fatto di favola di fantasia, di epico, che forse è anche alimentato in qualche modo dai nostri studi, nel senso l'arte, il cinema, i libri ci portano verso questa dimensione e quindi forse è possibile che ci sia una fetta della società che non riesce a soddisfare questo bisogno nel mondo razionale della scienza, della tecnica. O anche semplicemente nel mondo della sua vita quotidiana perché io sono abbastanza convinto che una persona mediamente soddisfatta della propria vita, adesso non sto trasformando i novax in una fascia di infelici sto dicendo semplicemente che una persona che non ha particolari motivi di risentimento verso qualcosa difficilmente si mette ad andare in giro con dei manifesti dove sta scritto meglio morti che schiavi e la schiavitù nella fattispecie sarebbe non poter prendere l'aperitivo perché alla fine è l'unica forma autentica di schiavitù che è stata sperimentata durante il lockdown, in fondo che cos'era? Non era la soppressione delle libertà civili, dell'espressione di parola, prova ne sia che loro potevano esprimere la loro parola ma era semplicemente, quindi la cosa che mi ha fatto specie meglio morti che schiavi era appunto come dici giustamente la postura eroica di questa roba, allora uno pensa ma quindi lei come Seneca anteporrebbe la libertà a quale schiavitù esattamente? Quindi se Seneca vivesse adesso rifiuterebbe il Green Pass tagliandosi le vene in un bagno, non so mi sembra strano, non credo che Seneca contemplasse questa eventualità, quindi sì io credo che ci sia questo forte elemento di sentirsi vittime ed è molto presente, tu insisti sull'elemento favoristico perché c'è l'elemento favoristico però c'è anche il fortissimo elemento vittimistico cioè esistono dei grandi apparati che originariamente sono Giove, Giunone, Satana, delle cose poi dopo sono la massoneria, il complotto ebraico universale, del resto questo complotto ebraico universale l'abbiamo sentito anche nei discorsi dei sovranisti che venivano due anni fa eccetera sempre lì a dire che in fondo i banchieri e si capiva che dietro a questo banchiere si intendeva qualcosa altro che fanno questo e questo, le elite che sfruttano il popolo e così, a questo punto questa stessa frenesia si è trasferita da un'altra parte, fortunatamente si è trasferita in parte molto ridotta, questo secondo me è l'aspetto più interessante perché coloro che sostenevano per esempio dei partiti sovranisti prima del virus erano enormemente più numerosi della minoranza che adesso fa il no vax cioè questi qua ho il no passo, cose di questo genere i coloro che si oppongono adesso sono una parte minima ma ancora due anni fa potevamo vedere leader politici in tutto il loro splendore che mostravano una corona del rosario dopo l'altra baciavano, facevano dei rituali in parlamento delle cose che sembrava il macumba e tutto questo sostanzialmente è scomparso, però credo che la radice sia sempre quella cioè immaginare che ci sia il complotto, immaginare che ci sia il capitale intelligentissimo e noi stupidissimi qual è il limite fondamentale che io trovo in questo atteggiamento? è pensare che l'unica postura politica possibile sia il vittimismo cioè che la vittima sia l'unico soggetto possibile e se uno pensa, ritiene seriamente che la vittima sia l'unico soggetto politico possibile ha rinunciato alla politica perché la politica non è fatta soltanto da rapporti di servitù ma, come diceva Hegel da rapporti in cui chi è schiavo diventa signore in qualche modo magari anche semplicemente capendo come stanno le cose ma se tu ti metti sistematicamente in quelle ingannate eccetera perché ha come unica via di uscita lo squarciare il velo dell'apparenza, della realtà ufficiale e andare nel... è come gli gnostici cioè gente che si poneva un po' ai margini della società convinti di essere degli illuminati però poi dopo non ha mai agito veramente dentro la società perché per agire dentro la società non basta essere vittime Sì, guarda, il punto è... non lo so, è vero che c'è la questione del vittimismo ma non so se è solo questo nel senso che molto spesso le persone novax sono persone novax o comunque hanno posizioni antiscientifiche sono anche persone benestanti, colte che hanno anche una vita di successo quindi è un po' inspiegabile se vuoi come questo si possa conciliare e anche un altro aspetto su cui vorrei richiamare la tua attenzione molti hanno insistito in questo periodo dicendo che questi fenomeni sono stati notevolmente causati amplificati o causati dalle piattaforme tecnologiche dalle piattaforme di comunicazione quindi i blog, facebook e così via d'altro canto tu nel libro parli della peste di Manzoni e di come già allora fosse più facile prendersela con il lazzaretto piuttosto che con la malattia di per sé ma io per esempio vi posso raccontare che già quando i primi vaccini vennero il primo vaccino venne creato il primo vaccino contro il vaiolo come sapete venne creato il termine vaccino deriva da vacca perché il genere era un medico di campagna in quel periodo c'era il vaiolo e lui c'era sia il vaiolo umano che uccideva più o meno il 30-40% delle persone che si contagiavano e poi c'era il vaiolo delle mucche che ovviamente colpiva gli animali e lui si accorse che le mungitrici che appunto erano addette a prendere il latte dalle mucche non si ammalavano cioè sviluppavano una forma di vaiolo molto leggero quindi gli venne in mente ma vuoi vedere che queste si contagiano con il vaiolo delle mucche questo vaiolo le protegge e da lì prese appunto il materiale l'infetto dalle mucche e fece una cosa che oggi ci metterebbero in galera subito se noi facessimo un esperimento di questo genere infettò un bambino con questo vaiolo vaccino vaiolo della mucca appunto e questo bambino poi lo infettò con il vaiolo umano e il bambino non si ammalò ed allora venne inventata la vaccinazione appunto perché le mucche e le vacche venivano portate nei vari paesi e con queste si vaccinavano le varie persone ecco già allora questo ha scatenato un sacco di movimenti novax per cui ci sono ora noi diciamo i novax dicono i vaccini e i mRNA ci modificano il DNA che è una stupidaggine colossale all'epoca dicevano diventeremo tutti mucche e quindi c'erano questi disegni degli uomini con la testa di bovino quindi è vero che c'è un ruolo attivo specifico dei mezzi di comunicazione di queste piattaforme o in realtà questo fenomeno c'è sempre stato è tipico dell'umano ma il caso che tu hai fatto di Manzoni dimostra che è sempre stato così adesso ovviamente la differenza specifica di questa pandemia rispetto a epidemie precedenti è il fatto che è stata una pandemia iper documentata in un'umanità composta in larghissima parte da scrittori cosa che un tempo non era cioè la gente non passava il proprio tempo a scrivere mentre adesso infatti i 600 che ho letto sono proprio la punta emersa di un iceberg infinito del resto Antonella faceva notare che ci sono 180.000 articoli scientifici accettati e pubblicati sul covid sul covid se calcoliamo che il covid se ne parla da meno di due anni ci si domanda in ogni minuto quanti articoli scientifici si producono sul covid cioè abbastanza così come del resto inversamente coloro che non fanno articoli scientifici sul covid scrivono dei libri o degli articoli non scientifici sul covid per esempio me stesso e altri milioni di persone tant'è che Gallimar ha dovuto scongiurare i suoi lettori che erano diventati tutti scrittori di smetterli di mandare dei manoscritti sul covid che non ne potevano più che non riuscivano a starci dietro che non riuscivano a leggerli eccetera e quindi perché? perché ovviamente è una sindrome iper documentata in fondo questa iper documentazione fa sì che come dire il complottismo percepito sia molto più forte come nella temperatura percepita cioè noi percepiamo molto più complottismo perché è molto più documentato nel senso che è un po' come l'imbecillità non sto identificando le due cose però tutte le volte che qualcuno scrive qualcosa sull'imbecillità dice eh siamo sempre più imbecilli come fai a saperlo? abbiamo sempre di più la percezione dell'imbecillità della gente perché la gente noi stessi a cominciare da noi stessi dà prova di imbecillità e ne lascia delle tracce palesi ma sono sicuro che ci fossero degli imbecilli anche nelle caverne solo che questi non hanno lasciato traccia se tu vedi le mani messe lì come fai a capire che è un segno di intelligenza di stupidità non hai non hai strumenti e quindi con un ragionamento fondato pensi che magari è un segno comunque di attività intelligente mentre magari c'era qualcuno mentre loro mettevano le mani e piantala di mettere queste mani sul muro della caverna e così non possiamo saperlo noi non c'eravamo e non ne sappiamo non ne sappiamo niente però se andiamo a vedere quello che effettivamente le strutture della narrazione 2021 e 1621 fra l'altro sembra proprio il quattrocentenario della peste manzoniana esattamente la stessa cosa cioè prima si diffonde il virus poi c'è il tentativo di dire c'è un'analisi bellissima che sembra proprio di leggere i giornali che dice ma sì non si deve dire assolutamente peste bisogna dire morbo infezione eccetera 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 poi alla fine si ammette che peste è bella e buona ma a questo punto il dibattito si è già spostato altrove a vedere chi è che ha causato la peste quindi trovare i viuntori eccetera tutti quelli che hanno causato sembra oggi più appunto abbiamo il come dire il filosofo dell'epoca che ricorda un filosofo della nostra epoca anche qui è bellissimo potrebbe essere una storia di Plutarco dovrebbero fare i filosofi paralleli Don Ferrante e Agamben stanno benissimi insieme nel senso che c'è non solo il discorso Don Ferrante che dice no ma allora la peste o è sostanza o è accidente dire che la peste è sostanza solo un cretino potrebbe dire accidente ma figuriamoci se è un accidente quindi la peste non esiste il risultato non si cura e muore maledicendo le stelle come un eroe di metastasio dice Manzoni fortunatamente invece Agamben non è morto o persino sospetto che non abbia lesinato una mucchina magari si è curato molto di più di quanto non dice però c'era l'idea che la postura critica consisteva nel non prendere per buono quello che viene detto e ultimo punto su questo c'è anche il momento in cui Don Ferrante dice la scienza è scienza solo bisogna saperla adoprare supponendo con questo che lui sapeva adoperare la scienza e gli altri no e quindi si arrangiasse tu prima hai detto appunto delle mani sulle caverne in realtà appunto quelli sono dei diari come tutti e tutte le tracce che sono state sempre lasciate dall'uomo allora cos'hanno di diverso secondo te i diari della pandemia hai notato qualcosa di nuovo nella scrittura di questi diari o hanno sempre lo stesso approccio lo stesso stile ma dovrei avere una visione sinottica di tutti i diari dall'origine dei nostri giorni e non ce l'ho provo a riformulare la domanda sai benissimo che il motto che abbiamo usato abusato soprattutto nella prima parte della pandemia è stato ne usciremo migliori si diceva questo e tu nel libro parli di secondo me questo ne usciremo migliori potrebbe essere l'equivalente popolare dell'esserci per la morte di Heidegger nel senso che ne usciranno i migliori anche una versione darwinistica anche beh certo nel senso sopravviveranno i città più forti no non credo che volessero dire quello volevano dire tra l'altro vabbè poi ne torniamo su questo concetto volevano dire che questa cosa ci avrebbe cambiato ci avrebbe trasformato come società richiamando appunto il concetto che tu dicevi dell'autenticità che si può trovare attraverso l'esperienza della morte noi siamo una generazione post bellica per cui forse questa è stata l'esperienza di morte più vicina alla nostra generazione allora la mia domanda è ne siamo usciti migliori e quindi aveva ragione Heidegger oppure c'è parso abbiamo colto l'autenticità magari in quei primi due mesi di lockdown e poi questa cosa c'è sfumata via tra le mani ma io penso che come dire sia presto per capire come ne siamo usciti intanto vediamo se ne usciamo perché ancora quello è un è un percorso in itinere ma comunque di sicuro allora delle cose sono cambiate in maniera secondo me irreversibile ma questo principalmente nella organizzazione della società in particolare nell'organizzazione del lavoro cioè certe cose che si sono introdotte dentro al lavoro non si tornerà più indietro perché sono più convenienti in realtà per tutte e due le parti sono per esempio meno inquinanti risolvono tanti problemi e in fondo non si aspettava che un momento per fare questo cioè tutti gli apparati erano pronti e a un certo punto quando il lockdown perché poi fra l'altro il lockdown ha avuto un effetto di un tipo diverso dal fatto generale del virus perché in fondo la cosa inconsueta per le persone è stato il lockdown non il virus in fondo esperienze di virus o che si muoia magari alla buona qualcuno con un minimo di riflessione ci arrivava anche vedendo i suoi cari o robe di questo genere ma invece questa cosa dell'essere chiusi di colpo eccetera questo sicuramente è stato uno shock positivo negativo di varie forme però di colpo l'umanità si è comportata in maniera profondamente diversa e con un effetto molto più capillare che nelle guerre perché le guerre quelle di una volta adesso sono delle cose molto diverse ma le guerre di una volta primo rarissimamente toccavano la popolazione poi hanno toccato la popolazione come la seconda guerra mondiale ma solo da un certo momento in avanti qui invece è come se una guerra scoppiasse dall'oggi all'indomani e toccasse il suo massimo all'inizio perché in fondo il lockdown è stato questo noi andavamo si poteva uscire solo per fare la spesa di colpo tutti gli impegni tutto il ritmo della nostra vita è stato completamente bloccato eccetera poi oltretutto dal momento che la prospettiva del vaccino era molto inel tempo uno pensava ma cosa faccio sto dentro qua due anni quattro anni quanto durerà tutto questo non si poteva sapere era ragionevole pensare che non sarebbe stato eterno però nulla ci imponeva nessuno al mondo credo fra l'altro questo è anche l'altro aspetto la fede cieca nella scienza è qualcosa di cui sono responsabili principalmente i beneficati della scienza molto più che non gli scienziati certo anche uno scienziato può atteggiarsi bruffonescamente a uno che sa tutto eccetera ma la verità è che la scienza ci tocca nella nostra vita generalmente in quei campi in cui la scienza ha dei risultati assodati da molto tempo e questi risultati ci portano a credere che la scienza sappia tutto su tutto in realtà la scienza è molto efficace in quei campi proprio perché ha assodato delle cose però di fronte a un evento di questo genere non è che si potesse prevedere quanto sarebbe durata come si sarebbe svolta che senso avrebbe avuto tutta questa pandemia con la stessa esattezza con cui si può predire che la cometa ripasserà fra un po' di anni non possiamo saperlo perché non lo si sa e questo secondo me accresceva l'elemento di smarrimento perché nonostante si sia convinti che ci sia un fondo antiscientifico nella modernità resta il fatto che l'unica fonte di fondamenti l'unica religione dei nostri tempi è in realtà la scienza cioè l'unica cosa a cui si crede fino in fondo prova ne sia che anche il papa alla fine ha creduto nella scienza e non nei sacramenti gliel'hanno rimproverato però effettivamente il momento in cui dice non andate a messa per piacere non andate a messa non ci sarà nessun intervento miracoloso che eviterà che voi siate contagiati a messa statevene a casa in questo lui ha ragionato come un uomo del ventunesimo secolo e sostanzialmente come un ateo del ventunesimo secolo non mi sto mettendo minimamente in tutte quelle polemiche che dicono questo qua non credere non sto parlando di questioni teologiche sto dicendo semplicemente che è arrivata la stessa conclusione a cui sarebbe arrivato un non credente quindi l'istanza di ultimo appello di tutto il processo non è la non è la fede ma è la scienza quindi sentirsi abbandonati anche da questa come dire istanza di ultimo appello ha modificato molto la vita cioè ha fatto vacillare come si dice la fede di molte persone quindi credo che sia stato davvero questo il momento del radicale cambiamento su cui poi si potrà elaborare il resto mi sembrano cose che sono entrate nell'uso alcune appunto cose tecniche pratiche cose che poi una volta consideravamo strane ma poi magari invece diventeranno abituali come erano già abituali in posti come la Cina la Corea cioè l'uso delle mascherine effettivamente lavandomi di più le mani e mettendomi le mascherine non mi sono preso l'influenza invernale stagionale quella che tutti gli anni mi prendevo e anche più volte all'anno è banale quindi basta poco uno riflette su questo però io credo che il vero e grande shock sia stato per tutti il lockdown e ovviamente per i ragazzi più giovani invece la DAD che è stata un'altra esperienza poco raccomandabile quella sicuramente negativa lì è difficile trovarci degli elementi di positività comunque è accaduta così ma io credo che come come collettività come società degli elementi di positività ci siano e sono essenzialmente due uno sono i vaccini mRNA che sono una scoperta sensazionale cioè chi tra 200-300 anni studierà la storia della medicina inserirà questo tra le tappe fondamentali della rivoluzione dell'umanità perché ci permetteranno di combattere infezioni in questo momento si sta lavorando per vaccini contro il vaccino universale contro l'influenza vaccini contro ebola zika malaria citomegalovirus tutto insomma sembra essere una grande potenzialità ma non solo in questo ambito ma anche per curare malattie genetiche cancro malattie autoimmuni quindi davvero una tecnologia rivoluzionaria che alla quale saremmo arrivati ma che è stata fortemente accelerata dalla pandemia per un motivo molto semplice perché da un momento all'altro si sono messi una barca di soldi sopra questa sopra questa ricerca e quindi si è accelerato molto il processo e l'altro aspetto secondo me che è cambiato come società molto positivo è che il ruolo della scienza nella politica è diverso e l'ultimo G20 secondo me lo fa notare immediatamente c'è stato uno studio pubblicato su una rivista Science che è una delle più importanti in ambito scientifico che ha analizzato quanto abbiano avuto impatto gli articoli pubblicati da noi scienziati sulle decisioni politiche in questo periodo e si è visto come era una cosa immediata cioè noi pubblicavamo un articolo e i politici prendevano una decisione ecco questo è un cambiamento secondo me a livello di gestione della società importantissimo che sarà importante mantenere non dico così naturalmente ma insomma mantenere questo dialogo nel futuro per affrontare le altre emergenze se permette aggiungerei un terzo elemento cioè l'Europa l'Europa era data come grosso modo superato spacciata tre anni fa e invece poi tutti i fenomeni di la necessaria organizzazione sovranazionale del fenomeno ha dato molta forza l'Europa ha indebolito molto l'Inghilterra per esempio mi sembra che questa creatura che sembrava ormai defunta o defungente non lo sia più torniamo però a uno dei temi chiave del tuo libro e cioè alla base di tutto questo c'è un'idea sbagliata che noi abbiamo della natura e della tecnologia questo è un concetto molto importante che effettivamente mi ha fatto pensare mi ha fatto analizzare anche cose al di fuori da quello che sta accadendo in questi giorni e cioè che si è diffuso in qualche modo l'idea in una parte di questa della società che la natura sia benigna verso l'uomo e che invece la tecnologia sia la nemica quella che ci domina che ci umilia che ci toglie il lavoro che ci uccide quando in realtà appunto è esattamente il contrario come è facile da capire basti pensare al coronavirus ma anche ai terremoti i marimoti le carestie insomma l'uomo non controlla la natura mentre in realtà la tecnologia è fatta da lui è anche vero però che la tecnologia va usata quindi vorrei che tu ci guidassi un po' sia nell'analisi del perché c'è questa visione così assurda io scrivevo sulla stampa commentando il tuo libro che se voi ci pensate siamo al paradosso cioè noi siamo disposti a pagare molto di più un prodotto che sia artigianale rispetto a un prodotto industriale al punto che un'azienda che produce biscotti deve farci credere che i suoi biscotti vengano prodotti nella fattoria col mulino e il gallo che cammina in mezzo alla farina e allo zucchero esatto chi mangerebbe dei biscotti prodotti così con gli animali che giocano e si muovono in mezzo alla farina e allo zucchero io preferisco mangiare dei biscotti fatti con una persona che ha la mascherina i guanti e la cuffietta in testa quindi ti chiederei di elaborare sia su questo e sia però su un tema che secondo me è importante cioè che la tecnologia è vero che è a nostro servizio però va in qualche modo incanalata nella direzione giusta sì giustissimo ma il punto è che per arrivare alla tesi padroni della natura e schiavi della tecnica bisogna partire da un'idea abbastanza chimerica tanto della natura umana quanto della tecnologia cioè in fondo il discorso che siamo che l'uomo ha lo stato di natura è l'uomo perfetto e poi dopo viene corrotto dalla tecnica dalla società perde ha una ipotesi dell'essere umano che ha sostituito con il termine natura Dio cioè l'uomo perfetto prima del peccato creato da Dio era ottimo e poi ha cominciato a rovinarsi con l'albero del bene del male il sapere eccetera e giù è peggiorato sempre di più Rousseau dice la stessa cosa non di Dio ma della natura la natura è lo stato perfetto avevano tante convinzioni per esempio vedevano gli indiani buonissimi felici idealizzavano gli indiani per inciso anche perché c'è un bellissimo dialogo indiani intesi come quello che dici pelle rosse quello che da bambini chiamavamo pelle rosse tra l'altro continuo da qualche parte del mio inconscio continuo di identificare indiane pelle rosse per cui dice hanno trovato l'indiano che ha ucciso un altro indiano mi sembrava di essere al far west invece ci si riferiva a un fatto di cronaca recente però per me l'indiano è sempre pelle rosse comunque ci sono questi esseri perfetti che poi vengono corrotti dalla natura eccetera in realtà l'essere umano inizia come essere umano quando adopera il primo apparato tecnico prima del primo apparato tecnico non è un essere umano è soltanto un animale un po' più svantaggiato di altri perché per esempio diventa autonomo molto tardi un gatto a quattro mesi è perfettamente padrone di sé un essere umano a 40 anni è raramente padrone di sé a 80 poi in balia degli eventi e questa è la caratteristica propria dell'umano per cui fra l'altro quando lo stesso Rousseau diceva l'uomo nasce libero ed è dovunque in catene come è stato possibile non lo so intanto magari fare delle domande a cui sa dare delle risposte però a prescindere da questo c'è il fatto che se c'è un animale naturalmente gregario è l'essere umano perché appunto nasce in un mondo estremamente regolato dove devi imparare un sacco di cose passa un sacco di tempo a imparare passa un tempo lunghissimo subordinato ad altre figure e se non passasse il tempo subordinato ad altre figure sarebbe un brutto e non un essere umano quindi l'emancipazione per l'essere umano avviene se avviene molto tardi quindi c'è questa scusate c'è un supplemento tecnico che stava accadendo sono circondato da supplementi del resto se noi fossimo allo stato di natura gran parte di noi sarebbe defunta e non saremmo qua a parlare con luci elettriche cose eccetera l'età media era 35 anni infatti si sottovaluta il fatto che i cosiddetti denti del giudizio erano l'ultima spiaggia di un essere umano che aveva consumato tutti i denti precedenti a mangiare carne cruda e altre porcherie e poi per gli ultimi ranni che gli restavano gli arrivano questi quattro denti supplementari e poi era il buio assoluto ora che cosa provoca questa distinzione questa situazione intanto delle nuove religioni molto strane cioè quando pensate quanto spesso quando si è fatto avanti il virus adesso meno ma all'inizio era proprio la natura si vendica cioè c'è questa specie di calì furibonda con gli umani che viene qua e ci fa secchi tutti ma rendersi conto che alla natura a noi di noi non gli importa proprio niente è come quando si dice dobbiamo salvare il pianeta altra rodomontata nel senso che il pianeta avrà un suo discorso sicuramente morirà di caldo ma non di questo caldo che stiamo producendo adesso ma semplicemente il sole che si espande divora il pianeta a quel punto non ci sarà un solo vivente ma ci saranno dei tempi lunghissimi in cui non ci sarà un solo umano sulla faccia della terra e la terra sarà popolata ad un'infinita quantità di esseri viventi semplicemente perché questi si riveleranno poi più adatti alle trasformazioni quindi noi non è che dobbiamo salvare il pianeta come se dipendesse da noi per inciso su questo come se dipendesse da noi ho annoverato nel mio prontuario un'affermazione grandiosa di Albano Carrisi che è documentata scientificamente che in una trasmissione la domenica pomeriggio appunto nei primi tempi del virus ha detto quanto segue cioè che visto che noi umani siamo riusciti a sconfiggere i dinosauri riusciremo anche a sconfiggere questo piccolo esserino eccetera ora è molto difficile che noi potessimo sconfiggere i dinosauri visto che i dinosauri sono stati sconfitti da catastrofi climatiche molto prima che gli umani mettessero piede sulla terra e per inciso se gli umani hanno avuto successo evolutivo che hanno avuto è proprio perché i concorrenti peggiori erano stati eliminati in precedenza ma probabilmente carrisi c'era quando c'erano i dinosauri anche 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 questo anche questo è vero non so se anche Romina non so bisogna bisogna appurare però il punto interessante è che in fondo questo esprime un'idea profonda radicata e cioè che siamo noi basta volerlo e se noi avessimo voluto anche nel discorso sul clima giustissimo nel senso che sono assolutamente d'accordo sul 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 fatto che ci saranno delle conseguenze molto gravi non sono convinto che si possa stabilire con esattezza l'anno in cui avverrà tutto questo anche perché se tu stabilisci con esattezza l'anno allora ragione Bolsonaro si parla del 2030 allora disboschiamo per l'intanto l'Amazzonia se la fine del mondo è stimata da qualcuno al 2030 disboschiamo facciamo un gran falò in Amazzonia tanto non succede niente io credo che saranno dei processi estremamente lenti e dentro a questi processi è auspicabile e credo anche possibile che si possa intervenire ma probabilmente la soluzione sarà di nuovo la tecnologia infatti perché il problema è che se tu se tu invece dici io voglio rinunciare alla tecnologia allora devi rispondere a una domanda del tipo risulta che la terra può nutrire 7 miliardi di persone soltanto ricorrendo ad apparati tecnologici molto probabilmente si potrebbe fare subito l'energia pulita però potremmo mantenere soltanto un miliardo di persone e quindi bisogna fare poi la scelta la cernita tu sei di quei 6 miliardi là oppure sei di questo miliardo qui come la mettiamo è come con il covid tutti pensano ma io non me lo prendo ma io non me lo prendo basti dire che è stato sufficiente le restrizioni che sono state fatte alla Grecia all'epoca della crisi economica greca da parte dell'Europa per abbassare in maniera significativa l'età media dei greci quindi rendersi conto di quanto siamo dipendenti da un apparato di questo tipo quindi non si può andare indietro arrivo alla tecnica perché tendo a tirar per le lunghe vedo che alcune persone riflessive contemplano l'orologio il punto è che la tecnica non va da nessuna parte senza gli umani una tecnica poco sofisticata in realtà può essere adoperata anche da animali non umani un bastone per esempio ma il web per esempio richiede gli umani e basta se non ci fossero gli umani il web morirebbe il giorno dopo ovviamente non è dire quindi siamo padroni della tecnica alcuni umani sono padroni della tecnica e se siamo subordinati siamo però subordinati a degli umani e non a dei misteriosi imprendibili apparati cioè non vedo che cosa possa vietare di capire cosa guadagna davvero Zuckerberg e tassare le sue aziende come si farebbe per qualunque altra azienda considerando che è molto facile fare tantissimi soldi avendo una fabbrica senza operai perché questo è il web una grandissima fabbrica che produce valore i cui operai non sono pagati c'è questo limite quindi questo per esempio è una cosa che si può fare però di nuovo non è la dipendenza dalla tecnica questo Moloch che ci governa ma è la dipendenza da altri esseri umani come sempre si è saputo per inciso poi la tecnica non ha nessuna volontà di dominio perché non ho mai saputo che una zappa volesse comandare cioè quando ci si è nella domotica non è che ci sia il frigorifero che cerca di prendere il sopravvento sopra la caffettiera qualcosa del genere è strettamente parlando impensabile mentre è del tutto pensabile in un gruppo animale che ci siano degli animali che vogliono la predominanza per inciso poi quel discorso che è diventato così corrente soprattutto nella cultura filosofica italiana da qualche decennio in qua che dice appunto la tecnica è un'imposizione la tecnica che ci dice di fare le cose cose del genere come se fosse la radio che ci dice accendimi ma comunque questo discorso qua ha un'origine tutt'altro che tranquillizzante nel senso che c'è Heidegger come primo teorizzatore di questo in un discorso del 1949 però prima di Heidegger questo discorso era stato fatto nel 1946 da Albert Speer a Nuremberg il ministro degli armamenti del Terzo Reich aveva fatto un discorso molto bello in cui lui all'inizio si era dichiarato il processo si era dichiarato colpevole cosa che gli ha salvato la vita perché gli altri sono stati giustiziati e lui invece ha avuto solo 20 anni ma nella dichiarazione finale ha detto sì la Germania era uno stato così perfettamente organizzato dal punto di vista tecnico che la volontà di una sola persona poteva arrivare dappertutto e quindi noi eravamo semplicemente gli esecutori e poi descrive questo mondo dicendo questo mondo fatto di cavi sta descrivendo il web ora togli anche la persona e metti invece che la persona l'essere come di solito fa Heidegger e hai la descrizione della tecnica che ci domina che appunto è una descrizione falsificante ma soprattutto che ci rende inermi di fronte agli umani che invece ci servono della tecnica per dominare su altri umani certo d'altro canto però va governata appunto come dicevi tu per esempio io sono sono molto preoccupata dal fatto che adesso come sai l'intelligenza artificiale domina quasi tutto quello che facciamo fa la selezione del personale è in mano all'intelligenza artificiale così come i nostri acquisti così come presto la sanità sarà in mano anche la cura della persona ecco il problema è che da un lato abbiamo questi quindi degli algoritmi che sono disegnati da dei ragazzotti poco colti spesso cioè spesso sono delle persone che si sanno maneggiare quegli strumenti ma non hanno una visione del mondo completa e dall'altro questi questi sono basati questi questi questa intelligenza artificiale è basata su dati vecchi nel senso che sono i dati già esistenti del passato con i quali noi nutriamo l'intelligenza artificiale e a me spaventa un po' un futuro che sia da un lato basato su dati molto vecchi e dall'altro in mano a dei ragazzi che non hanno una grande cultura e visione del mondo soprattutto come donna perché poi c'è tutta una questione del genere legato all'intelligenza artificiale allora come può la filosofia entrare pesantemente in campo in questo in questo momento così delicato della creazione del nostro futuro perché noi rischiamo di creare un futuro che perpetui gli stereotipi del passato e che ci riporti indietro piuttosto che portarci avanti ma intanto una considerazione tutto vero quello che dici però i dati vecchi se sono proprio vecchi vecchi non sono così da buttare in fondo la cultura è un grande cumulo di dati molto vecchi rispetto a cui noi comunque riusciamo a prendere delle posizioni cioè tutti noi più o meno al ginnasio o robe di questo genere leggiamo i poemi omerici però poi dopo sappiamo benissimo che chiunque si comportasse come uno di quegli oroi omerici finirebbe in galera nel giro di pochi minuti e a giusto titolo quindi sono comportamenti grossomodo criminali che sappiamo distinguere quindi l'antichità del modello e posizionare questa antichità ma al di là di questo di questo punto che è solamente di di contorno ma che vuol dire che se questi ragazzotti conoscessero dei dati vecchi 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 forse potrebbero per esempio anche solo vedere nel passato uno schermo uno spettro e uno specchio deformante di quello che sono loro o delle loro idee oppure dire ma scusa non siamo mica ai tempi di quitanestra o robe di questo genere ma dall'altro lato invece sicuramente quello che la filosofia deve fare è una cosa del tipo di quella che ha fatto Marx ai suoi tempi in fondo Marx cosa ha scoperto ha scoperto che l'operaio lavorava metà del suo tempo se andava bene per se stesse l'altra metà lavorava gratis per il padrone adesso bisognerebbe capire che l'umanità intera lavora gratis per le piattaforme produce un enorme valore e potrebbe comprendendo questo riuscire a creare un circolo virtuoso nel senso che è importante notare che questo enorme valore prodotto dall'umanità non esisterebbe se non ci fossero le piattaforme e inversamente le piattaforme non esisterebbero senza l'umanità che ci carica sopra le sue cose le cose che vengono caricate dall'umanità possono essere qualunque cosa anche la più orrenda vera e propria spazzatura frasi antisemite frasi sessiste pedopornografia libri di liala tutto quello che volete viene caricato sopra sopra questa macchina la macchina però la trasforma in valore cioè per esempio genera quell'automazione dei processi che poi sta alla base del funzionamento sempre crescente di funzioni automatizzate che quindi aboliranno moltissimi lavori però fortunatamente i lavori brutti non quelli belli nel senso che i lavori che possono essere vantaggiosamente sostituiti da una macchina come per incanto ti rendi conto che non erano dei bei lavori e non parlo quindi soltanto dello stare nella catena di montaggio ma per esempio fare il dattilografo 50 anni fa sembrava normalissimo adesso ci sembra una cosa incredibile stare per otto ore a scrivere sotto dettatura copiando qualcosa e questo per l'ottimo che ci sono le macchine che lo fanno e quindi ti sembra inappropriato una cosa del genere però una volta che uno non ha più quei compiti come dire che possono essere automatizzati si apre ovviamente il problema del dire e va bene ma allora di che cosa vivrà costui spesso a questo si risponde con una frase detestabile cioè dire non sarà più la forza fisica o la disciplina sarà la creatività che sembra una risata in faccia alla gente nel senso che la creatività è una cosa rara anche in persone cosiddette creative viene un'idea ogni top pensare che l'umanità intera si debba salvare ricorrendo ad una misteriosa creatività che non ha mai avuto in precedenza in dosi massicce è un insulto ma invece tu hai preso il basso continuo e anche stupido della produzione umana cioè di quello che gli umani fanno lo hai trasformato in valore come piattaforma a questo punto questo valore deve essere misurato deve essere tassato può essere distribuito e ridistribuito in termini di educazione perché allora a questo punto una persona educata è più capace a reagire di fronte al presente e immaginare delle possibilità per il futuro niente di creativo ma solo se ti hanno insegnato a fare una sola cosa nella vita quando quella cosa lì non è più necessaria tu non sai che cosa fare e se il cambiamento avviene troppo tardi non sai più cosa fare in assoluto per questo io dico che è interessante la cultura umanistica importante la cultura umanistica perché è una cosa che non avendo nessuna applicazione immediata non dipendendo da nessuna tecnologia contingente può essere continuamente spesa e rinnovata che è una cosa che in fondo anche pochi anni fa non l'avremmo detto avremmo detto sì certo la cultura umanistica è un bello ornamento però poi venendo al dunque ci sono cose più solide sinz'altro ci sono cose più solide però non dimentichiamo che in questo momento la macchina una volta la macchina chiedeva all'essere umano di essere un appendice della macchina dare martellate fare cose tipo tempi moderni adesso invece noi siamo interessanti per le macchine principalmente come umani cioè come portatori di preferenze di desideri di gusti di valore anche semplicemente i voti le stelline che diamo a queste che non è un granché però se gli umani possono diventare migliori di quello che sono e per inciso teniamo presente che contrariamente a quelli che pensavano che l'umano era perfetto all'origine poi non ha fatto che decadere sarei portati a pensare il contrario cioè non esiste un'essenza umana definita una volta per tutti c'è un divenire un divenire che per inciso sembra andare verso il meglio perché se noi confrontiamo anche soltanto per restare alla medicina effettivamente sembra non so se sia vero ma comunque che molte delle terapie più diffuse nella medicina cioè come si strappavano i denti nel primo ottocento adesso moriremmo tutti perché non siamo abituati a superare una certa soglia di dolore o cose del genere quindi non solo i dentisti si sono ingentiliti ma l'umanità nel suo insieme si è ingentilita se guardiamo appunto quando andiamo a guardare e finisco su Buon Selvaggio perché anche Buon Selvaggio ha un profilo biomedico interessante nel senso che c'è una bellissima lettera di Voltaire che risponde a Rousseau che gli ha mandato uno dei suoi libri contro contro appunto contro la civiltà e gli risponde ho appena ricevuto il vostro elogio degli animali dopo averlo letto verrebbe voglia di camminare a quattro zampe ma avendo perso questa abitudine da molti anni ormai non mi sentirei di farlo d'altra parte sarei anche molto contento di andare dagli indiani nel Canada ma la mia età e le medicine che le cure che richiedono mi impediscono di spostarsi fin là e mi fanno mi danno la necessità di medici europei qui dentro c'è già tutto nel senso che se poi vai a vedere il Buon Selvaggio il Buon Selvaggio è uno che per esempio mangia suo nonno e non puoi neanche rimproverarlo perché è un Buon Selvaggio quindi anche il nonno speriamo che fosse buono ma comunque cioè come fai a a criticare il figlio della natura con questo non voglio dire che erano tutti cattivi i Buon Selvaggi vivevano così e noi viviamo diversamente tutto sommato preferisco come viviamo noi non mi sembra comodo anche solo ritornare nella vita dei cacciatori raccoglitori significa che alla sera uno si siede intorno a un fuoco e sente sempre lo stesso sempre lo stesso o con poche variazioni deve essere infernale per loro cambia niente perché se uno è abituato a ricevere una certa intrattenimento culturale gli va bene anche quello però per noi che siamo abituati a passare le nostre serate a sentire uno che parla al circo dei lettori potremo mai rassegnarci a sentire dei miti intorno a fuoco credo di sì che molti lo desidererebbero e quindi io credo che siamo giusto al termine allora io concludo invitandovi a leggere naturalmente questo libro di Maurizio Ferraris perché per una cosa che tu scrivi nell'inizio nel prorogo se non sbaglio è che io veramente ho trovato ha risuonato in me perché l'ho sempre pensata ma tu l'hai detta meglio naturalmente e cioè che non siamo resilienti nel senso è una parola che anche io ho sempre detestato non mi piace per niente perché non è vero che siamo resilienti il nostro è un cervello plastico per cui tutte le esperienze che viviamo ci modificano il nostro cervello creano connessioni ogni giorno noi siamo diversi grazie appunto alle interazioni a quello che alle discussioni a quelle persone che incontriamo ai traumi anche e anche grazie alle buone letture e alle ai libri alle idee che ci creano nuove nuove sinapsi nel nostro cervello plastico quindi proprio perché non siamo resilienti e se leggiamo un buon libro non ritorniamo a essere quelli di prima ma diventiamo probabilmente delle persone migliori ecco io vi invito appunto a leggerlo perché sicuramente troverete dei concetti sui quali poi sarà interessante e divertente ragionare e riflettere grazie di essere stati con noi questa sera grazie 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 a tutti